buongiorno a tutti ragazzi oggi intanto io mi faccio gli affari miei stato per cambiare sto ponendo un motore no? un motore di una vespa pk che era fermo da dieci anni pk 50 vabbè allora voglio dire la mia sul grande Ema non voglio parlare di quello che è successo come di come è venuto a mancare non voglio tanto meno ricordarmi che lui è quella persona Ema è quello che è venuto a mancare perché ha fatto così no assolutamente non voglio io invece voglio che le persone se lo ricordino per il grande meccanico che era per l'imprenditore che era e per la passione e l'euforia che metteva nel suo lavoro perché ha avuto gli alti e bassi ha avuto problemi nella vita si è ritirato su poi è cominciato a andare tutto bene youtube instagram facebook mi sembra televisione è stato una grandissima persona secondo me ma cosa che ci interessa di più era un grandissimo appassionato dei motori era veramente qualcosa di che quando vedi un video diventa contagioso perché era veramente un grandissimo appassionato bellissimi video molto istruttivi molto spiegati bene e io voglio che 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 Ema il grande Emanuele Sabatino venga ricordato così non per come è finita ma come è stato il viaggio alla prossima ragazzi ragazzi Grazie.